Allora, finalmente ci si rivede. Quanto tempo? Uh, anni. Anni, secoli. Sei mesi. Oggi si rinizia? Oggi si rinizia e come vedi sto lavorando. Sì, al calcio vedo. Niente, il tuo amore è quello e basta. E niente, è tutto qua. Ah, ecco, è arrivato anche il curatore. Voglio tuo marito. E' arrivato anche il curatore. Eeeh, ci stiamo. Ci stiamo. E' arrivato un coglione. Eeeh, è arrivato un coglione. Belli, mi chiede. No, brutti. Stavo facendo una cosa e io. Sono malati di protagonismo. Incredibile. Sto facendo un piede a te. E lui ci guarda. Ma oggi siete pronti? No. Sì. Io voglio andare a fare il sguardo. Grazie per avermi visto la sguardo. C'è una novità incredibile oggi. Mi raccomando perché alle 14 ci sarà la sigla nuona dello Zodii 105. E' vero, è fighissima. E' super figa. Guarda che mosse da giovani. Andi, me la devi dare anche? Scusa, Goloida. Sono arrivati i bianchi di peto di... Io sono i bianchi di Gailer. Ma... Sono i bianchi di Gailer, Papa Francesco. Ma i bianchi di Gailer, ho già montato. Vabbè, ciao. Saluta, saluta. Ciao. Grazie.